Eustorgio è proprio un bel nome, deriva dal greco e significa bene amato e davvero possiamo dire che la memoria del vescovo Eustorgio è davvero bene amata nella diocesi di Milano per tutte le tradizioni, i ricordi, le memorie legate proprio alla figura di Sant'Eustorgio e alla basilica che ancora oggi a Milano porta proprio il suo nome. Chi ci parla di Sant'Eustorgio che è stato il nono vescovo di Milano? È Ambrogio, cioè uno dei suoi successori. Ambrogio ricorda chi l'ha preceduto, ricorda l'impegno di questi vescovi contro l'eresia anche a costo di soffrire proprio personalmente. E cita, appunto, ricorda Eustorgio, dice che è stato confessore della fede, cioè ha patito proprio pene, sofferenze, persecuzioni. Non sappiamo esattamente quando sia morto. Sappiamo che nel 355 c'era già il suo successore, che si chiama Dionigi. Possiamo quindi collocare l'episcopato di Sant'Eustorgio proprio a metà del IV secolo e possiamo pensare che sia durato circa un decennio. La tradizione, tuttavia, ha voluto fissare proprio la data della morte, cioè della nascita al cielo di Eustorgio al 18 settembre. E quindi ancora oggi, proprio lo si ricorda, la sua memoria liturgica è in questo giorno. Cosa dice la tradizione? Che lui ha fondato la basilica che porta il suo nome, quella appunto fuori Porta Ticinese, che è una delle basiliche proprio più importanti e più belle che ci sono a Milano. Sorge proprio in una zona importantissima, perché lì gli scavi archeologici hanno riportato alla luce un cimitero paleocristiano, che ancora oggi è visitabile, proprio sotto la basilica di Sant'Eustorgio. Una zona, peraltro, legata a memorie importantissime. Sappiamo che lì, sempre secondo la tradizione, c'era il fonte battesimale di San Barnaba, l'Apostolo che per primo avrebbe proprio battezzato, evangelizzato la città di Milano, motivo per cui ancora oggi i Vescovi di Milano che entrano, iniziano il loro mandato, il loro ministero, partono proprio da questa zona, proprio dal piazzale di Sant'Eustorgio. Chi visita la basilica, che è colma di tesori artistici, è colpito soprattutto da un enorme sarcofago, proprio qualcosa di monumentale, un sarcofago in pietra, che gli archeologi dicono potrebbe essere del III secolo, III secolo d.C. Ebbene, legato a questo sarcofago ci sono una serie di leggende, di tradizioni. La più antica, che risale a ben prima del 1000, dice che un imperatore romano aveva fatto costruire per sé questo sarcofago enorme, ma poi era talmente grande, talmente pesante, che non poteva essere più spostato in nessun modo. Allora è stato donato a Eustogio e il Vescovo Eustogio, invece, con l'aiuto divino, è riuscito proprio facilmente a portarlo dentro quella basilica che aveva appena costruito, ed è diventata la sua tomba. Questa storia sarebbe raccontata anche in un bel capitello di epoca romanica, che si trova proprio dentro la basilica stessa. Ma Sant'Eustogio, lo sappiamo, è legata soprattutto alla memoria dei magi, alle reliquie dei magi. Ecco allora una tradizione più tarda, che dice, racconta che Eustogio si sia recato a Costantinopoli proprio per ottenere dall'imperatore la ratifica della sua elezione a Vescovo di Milano. E in quell'occasione avrebbe ricevuto dall'imperatore di Costantinopoli le reliquie dei magi, preziosissime, e quindi le avrebbe portate proprio a Milano. Ecco allora che questo sarcofago sarebbe stato destinato ad accogliere proprio le reliquie, i resti dei magi. Magi che, ahimè sappiamo, poi furono trafugati durante le distruzioni del Barbarossa, 1162, e traslati a Colonia nel Duomo, dove ancora oggi si trovano. Alcuni frammenti però di queste reliquie, poi agli inizi del Novecento, sono stati donati al Cardinal Ferrari e quindi sono tornati a essere presenti proprio nella Basilica di Sant'Eustorcio. Insomma, attorno alla figura, alla memoria di questo Vescovo ci sono alcune delle più importanti e delle più belle tradizioni ambrosiane, e merita quindi proprio di festeggiare Sant'Eustorcio.